Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi ci ritroviamo per continuare la nostra avventura in Manor Lords e ho appena visto che c'era un uomo con la birra, quindi attenzione Yes, abbiamo un po' di birra, uhuu Eh, qui dovrebbero iniziare a raccogliere la roba, eh Non era 69, scus- Ah no, già l'abbiamo raccolto, ok, 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 pane, guardate qui, quanto grano Yes Yes Allora, aspetta un attimo, facciamo uno delle capre, dove era qui? Sì, adesso Fornitura della taverna, ah, dobbiamo fare questo, le bancarelle Mmm C'è una casa di livello 2? Eh, sì Allora, portiamo su questa Bottega del carpentiere, dov'è? Sì, perché questo era stato distrutto, allora io direi basta, perché qui già abbiamo abbastanza roba Gli archi ci servono, qui stanno lavorando Qui non c'è nessuno, qui c'è stata la grandissima rosicata degli animali, non ho idea di perché siano morti, forse se è buggato questo non ha funzionato, questo è un po' un casino, dovremmo mandarci della carne dall'altro paese Che c'è? Ma è questo sempre, no? Ok Sì, infatti è sempre questo Questo qui è sempre pieno perché il magazzino è uno Il cavallo, a proposito, è arrivato? No Allora, allora, vediamo un attimo Pochissimo cibo Quindi direi, mandiamo una persona qui a fare il pane Strano che ci sia solo sto cibo, abbiamo messo un sacco di gente a fare 61 uova 15 verdure, 3 bacche Ecco, andiamo la gente qui Andiamo un altro qua Ok, ah, il mercato dobbiamo, cioè il centro di scambio dobbiamo costruire oggi La cosa più importante è vedere un attimo qui Di far arrivare a livello 3 qualche casina, tipo la birreria non sarebbe male, ma meglio apriamo quello delle capre Ah, ci serve questo Allora, vediamo dove possiamo togliere della gente Qui non ce ne sono, vero? Ok Qui Uno Qui Uno Mo, il fatto è che pure qui ci abbiamo 87 contadini Serve tutta sta gente Dove stanno gli altri, tra l'altro? Su a Magese Ok Tu grano zero E allora Magese, scusa, non ci serve Allora, questi stanno qua Ok, 39 di orzo Va bene Ok Segantino Ci abbiamo bisogno ancora? Forse adesso possiamo togliere uno da qua E avere due che costruiscono Fammi vedere di là, nel frattempo Qui ci sono due che non fanno niente Allora Cibo, 8 mesi Purtroppo qua il cibo è lontanissimo Non beh Mazzà, qui già 26 E porca miseria Allora, io direi qui Tra l'altro qui già l'abbiamo fatto, vero? Non l'avevo messo Sì, ok Mettiamo altre galline Capre Ci serve per adesso Uno la conceria Qui c'è Dovremmo potenziare anche questo Ma non c'abbiamo la gente Nella buca del segantino Poi uno qui Il problema è che poi non c'abbiamo più gente Eh, lo so, un attimo Qui potremmo continuare a costruire case Ok Oh no Attenzione Dove? Bandiri Ok Bisogna mandare immediatamente l'esercito No Qui Lo mandiamo Dove stavano? Qua giù Allora Esercito Allora Esercito Non c'è bisogno Tutta sta gente Ma Voglio Vedere un attimino Un esercito Grande Ok Non dovete correre È bella la chiesa Ok Abbiamo portato al livello 2 Ok Possiamo arrivare al livello 3 E vai Questo è di livello 1 Ce ne dovrebbe essere un altro Livello No Qui non ci arriva L'abbigliamento Why Desolazione Ah Imerut Madonna Sempre pieno Allora Mettiamo uno qua E togliamo uno Da dove? Da qua Ok Allora Che sfiga E beh giustamente Riempie prima queste No ma questa Neanche Scusa Ah perché quella Sarai Vedi che era di livello 1 Per quello Ok Dov'è quello che stiamo costruendo? Livello 2 Eccolo qua Vai Intanto c'è il nostro esercito Allora ho letto che per adesso Le mura per la città Non sono implementate Ma poi verranno aggiunte Quindi No Non vi preoccupate Come faccio Per aumentare Per migliorare questo Eh Quasi ci vale un bot 68 Ne abbiamo solo 53 Aspettiamo Niente Sì comunque ci dovrebbe essere Un qualcosa che Permetta di vedere meglio Cosa stiamo costruendo Perché se non si vede niente Queste pecore qui da sole Non fanno niente In realtà ho letto che forniscono carne Ma Non mi pare Qui non lavora nessuno Perché vedo che qua Come non c'è niente 69 69 Oh Bello Perché non portano il grano Strana Vai Che giro hai fatto Perché non sei andata di qua Ancora Eh lo so Ma finché iniziamo Cinque assi Ok No Dieci Damnation Esercito Dovete venire Qua Com'è questa strada Ok Ed è Qua Bravi Avanti Sarà idea che mi sa che possiamo prendere un'altra regione Anche se queste non che mi facciano proprio impazzire Eh lo so Lo so Adesso lì avremo dieci Travi E aggiusteremo tutto Campo di grano 39 28 Questa magese Perché se no Ci serve assolutamente Quello del Della cacchina delle bestie Perché se no È un casino Qui non capisco perché non stiano prendendo niente Eppure qua la gente c'è Scusa Perché non vai Perché stanno tutti là Ma Molto strano Perché la gente qui c'è Mettiamone un altro Che ti devo dire Forse perché ho messo altissimo qua No Al medio Mo Oh E vai Imerut Una nuova persona Ok 5 assi Bene la buca del segantino Grazie Ok Ah forse con tab Me lo fa vedere Vediamo Capiterà anche cosa stiamo costruendo Sì Ok Questa cosa vuol dire 0 su 3 Lo so ma Pozzo Ok Dovremmo costruire Anche un altro campo Sono arrivati i soldati Da giù Maddeghe Ok Burgash De livello 2 Fatto E ora possiamo fare Non possiamo più farlo Perché Dovremmo No Questo allora Questo è quello Delle frecce Ma ancora Non l'ha affatto Che diavolo ha potenziato A livello 2 Solo 5 archi Perché Bottega Del sarto L'abbiamo fatto Allora Ok Facciamo questo No Filato di lino Oh jeez Non ce l'abbiamo Filo E tinture Che pill Le scarpe Le scarpe Invece Che danno Come si vanno Le scarpe No Dove sei C'è anche il santuario Ah no La decorazione Dove sei Vedete com'è che ti chiami Bottega del calzolaio Bottega del fabbro Chi non si vede Dove sei Starò qua No Bottega del fabbro Bottega del calzolaio Ok Scarpe Eh Ma scarpe come si fanno Col cuoio Speriamo si E facciamole un altro Che ti odi Mi serve una casa Di livello 2 Bello Ecco Non possiamo Perché Non abbiamo abbastanza Cittadini Figo Allora Tocca fare altre case Un attimo Che sono arrivati I soldati a combattere Oh si Porca miseria Non pensavo Abbiamo già vinto Ok Porca miseria Ci hanno ingaggiati Dalla distanza Annaggia Ok Allora Facciamo delle case qui Perché non abbiamo abbastanza gente Voglio una casa grande Ok Ok Qui continua a non fare niente Probabilmente Perché stanno tutti Su O no Nuovo messaggio No invialo Alla città Bene Eppure la gente Qui c'è Che poi qui c'è bisogno Di abbigliamento Proprio Linen Però aspetta Aspetta Di Ah no Ce ne vogliono Ci abbiamo uno Questo qua Di secondo livello Manca E sarà proprio Quell'altro Bene Bene Ci abbiamo questo Ma non abbiamo Quell'altro Che fa Questo E' il fatto E' il fatto che ci abbiamo E' il fatto che ci abbiamo Oh Finalmente è partito Là si c'era Poca gente Diciamo qua dentro No Ma ci abbiamo Solo uno Che lavora Lì Ci hanno ridato Tutto 37 archi Direi Basta Archi Certo problema Che poi Quando li disattivi Questi qua Non fanno più niente Dove era Quello degli scudi Eh Vedi Questi però A livello 1 Ci stanno Ah vedi Qui non te lo segna Però dove stanno Gli artigiani Bisogna trovare un modo Per capire Chi è Allora Questo è il fabbro Era qui No Questa è la birreria Dove diavolo sta Quello degli scudi Sarto Dai Questo No Ma ci sarà Un modo più semplice Per vedere Chi è Chi No Carpentiero Ok in pausa Bene Allora Sbrigatevi a costruire Ste case Ok Pimerut Ok Sta prendendo Un botto di gente Meno male Ottimo Un sacco di cibo Qui è tornato Ora sarebbe bello Potenziare questo Perché potrebbero Arrivare delle malattie Grazie E poi Potremmo potenziare anche questo Anche se per adesso Non ce n'è bisogno Non so se Ti può mettere qua Se rio Hai fatto che il deposito Il legname è quasi Al massimo Allora no Sapete cosa facciamo Aspetta Costruiamo qui Quello per il commercio Con l'altra città Con la nostra città No Dov'era Ah non abbiamo fatto La carbonai È vero È questo Punto di raccolta Utilizza Questo Edificio Per stabilire Una connessione Di scambio Che ti permette Inviare e ricevere Risorse Da questa regione O un'altra Sotto il tuo controllo Ok Poi Che che chi Cosa Qui Cosa ti manca Che cosa ti manca Il cibo Eh lo so Abbiamo pochissimo cibo Adesso dovremmo Compensare Qui c'è un botto di gente A lavorare Allora facciamo Quello per il commercio Non è questo Vero Posso scambio bestiame Ok Vai Abbiamo già fatto Tutto il grano No Impossibile C'è zero grano Tre pani Il miele pure Considera cibo Qui come andiamo Qui tra un po' Si può raccogliere Dobbiamo fare Dobbiamo fare Un altro campo Perché questo qui È sterile Eh guarda qua Ti è pure questo Questo l'abbiamo Messo a cacchi Dovemmo fare una strada Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 31 assi. Madonna veramente. Dobbiamo fare anche quello che ripianta gli alberi perché qui sennò proprio ciao. Ok nuove case vai forse adesso più meglio fare un'altra casa dell'acqua. Ecco qui. Questo strano non ci sia fai salire di livello no? Ok abbiamo fatto più case. Bello bello mi piace come sta venendo su. Possiamo far salire di livello questa? Poi potremmo potenziare qualcos'altro. E' tipo questo vedi? Che è questo. Ste pecore boh. Abbiamo fatto quello che... Facciamo 49 decole. Non abbiamo fatto quello che faceva il filo no? Perché se ci serviva altra roba. Fornace d'argilla. Allora vi direi aspetta un attimo te. Vieni via. Vieni a fa' il pane. Qui c'è? E' sempre questa. 83 adesso però dai. La stazione è meno 4. Non hanno pochissimo cibo qui. Siamo stati proprio fregati alla grande. Qui dovremmo mandare altra gente. Ah fammi vedere. Qui abbiamo costruito. Yes. Allora se io adesso qui... Ordina un mulo. Ordina un mulo. Grunwald. Possiamo mandare... Dovremmo mandare del cibo. Tanto qua possiamo andare un altro a cacciare. Grazie. Oh qui va a fuoco tutto. Bene. Vengo. Niente da vedere qui. Tranquille. Da solo tutto a fuoco. Che c'hai? E' sempre la buca del segantino. 31 assi. E non c'abbiamo più l'orzo pure. Allora qui ne avremmo 44 d'unità. E qui? Mazza qui 71? Ok. Avvia raccolto. Sì ma che poi succedesse qualcosa e lo perdiamo. Sì decisamente poi ci serve più gente. Forse un'altra segheria e uno qui a costruire gli alberi. A costruire gli alberi sì. Sì. Facciamo questa qua. Perché qua no? Maledetto. Ok qui non c'è niente. Quindi potremmo mandarlo qua a produrre del pane. Quanta farina abbiamo? 19 farina. 36 cereali. Ah no. C'è c'è uno qui ancora. Ok. Una nuova famiglia. Perfetto. Rai è bello eh. E' bellissimo. Veramente bellissimo. Eh lo so belli miei ma qui. Mazza quanto ci mette oh. C'è qui stiamo ancora facendo questo. Qui mo dovrebbero raccogliere tutto. Eh sì 68 orzo. Ok. Quindi sarebbe bello potenziare anche questo. Perché a farmi tra la laverna. C'è nessuno. Qua pure. Non so se convenga prendere adesso sta roba. 75 giorni. Sparisse poi tutto. Sai che casino. Ok. Veramente pochissimo cibo. Abbiamo preso il mulo qui? C'è? Sì. Allora. Mandi. Tipo. La carne. Quanta carne abbiamo qui? 65 di carne. Tiè. Ando la carne. Perché warning? Gornwald. Ok. Non so cosa. E loro ricevono niente. Ci devi fornire la carne. Ok. Ok. La birreria è già a livello massimo. Ah. A livello 3 ci servono i coppi. Vedi? Come dire se questo sta facendo ancora. Sì. Ci abbiamo ancora argilla. Sì. Perché ne avevamo preso un botto. Che succede qua? Non si è. Rifugio del boscaiuolo. Capanno del guardaboschi. Fatto. Allora. Mettiamo subito uno a lavorare. Grazie. Metti i boschi qua. Oh mamma mia. Ancora. Quanto manca qui? 69 giorni. Mmm. Ok. Le politiche immagino siano sempre le stesse. Vero? Sì. Questa qua è a livello 2. Quindi un cavolo. Posto di scambio. Ok. Allora. Che possiamo scambiare? Veniamo un po'. Vabbè. Non volevo prendere questo. Ho cliccato male. Vabbè. Commercio. Ah. E' vero che dobbiamo pure aprire la roba qui. Non c'è un cavolo. Possiamo esportare questa. Le degole. O la pietra pure. No. Esportiamo la pietra. Esporta. Bella. Una moneta. Ah. Lol. Ah beh. Ma c'è qui poi. Ok. Potremmo importare lino ma non ci abbiamo i soldi. Che altro possiamo esportare in numero copioso? Un cavolo. Potremmo importare queste. Degli indumenti. Perché altrimenti non li possiamo fare. Perché per fare gli indumenti abbiamo bisogno del tintore. Il tintore usa le bacche. Ma le bacche ci servono per il cibo. Quindi questi usano la lana per produrre il filo e il lino per produrre il filato di lino. Questa roba qui. Questa roba qui. Questa roba qui. Dov'è? Questa è la berreria. Bottega del sarto. Bottega del sarto. Questi. Vedi? Hanno bisogno di tinture. Per questo c'è il filato di lino e servono le tinture. Sempre le tinture. Il fatto è che quello ci dà il cibo. Capito? Abbiamo pochissime bacche. Potremmo importare la tintura. Quanto costa? Costa abbastanza. Scambi importanti. Carbone. Potremmo anche darci alla costruzione compulsiva alla distruzione compulsiva di alberi. Questo qua starà funzionando? Carne. Il mulo Già l'abbiamo fatta, vero? Spazio per sale. Uno su due. Ok, sì. Qui stiamo andando alla grande, in realtà. Potremmo provare qui a prendere. Non abbiamo più nessuno libero, eh. Però facciamo qualche altra casino, eh. Ok. Togli. Ok. 31 assi, madonna. Ok. Ok, è arrivato il cavallo. Quindi abbiamo un animale in più. Ah, dove lo mettiamo? Qui già c'è. Ok. Qui ce lo dovrebbe avere. No. Dovremmo metterlo qua perché abbiamo 32 tronchi. Sì. Eh, qui pure ci serve la gente perché in legna non ce n'è poco, ma. Ce n'è anche tantissimo, ma. Vettiamo un altro. Eh sì, adesso il grande problema è questo. È quello dei... a meno che le scarpe non si possano fare... non vengano considerate come abito e si possano fare per i vestiti con il cuoio, magari. Speriamo. Vediamo un po'. Quando finisce costruire sta casa... All'orzo adesso c'è, infatti. Tra un po' dobbiamo prendere questo. Qui stanno producendo pane. Non è tantissimo. Allora, qui potremmo fare qualche altra casina questa volta. no. All'orzo con tre... Ok. Sì. Sì, si è sempre la buca del segantino. Quanto ci metterà questo a... a piantare gli alberi. Un milione di anni. Guarda che bello il sole. Ok. Questo l'abbiamo fatto? Sì. Allora, proviamo e proviamo. Magari questo va bene. Vai, veloci. un'altra persona. Ottimo. C'è veramente un buato di gente a lavorare nella fattoria, eh. Anche il mercato si è ampliato parecchiuccio. Vai, finisci. Speriamo, incrociamo le dita che consideri... cioè che si possano utilizzare la pelle per fare le scarpe. vediamo. Attenzione. Eh, non c'è scritto. What? What? Non ce lo dice. Ce ne accorgeremo fra un po'. Allora, qui già stiamo a tre. abbiamo trentadue pani. Qui non c'è più niente. No, ce ne abbiamo trentotto in realtà. Come al solito c'è, ma... Allora direi uno lo mandiamo qui, grazie. Nell'altro lo teniamo free. Avviserà quando arriva... Ah, qui non c'è nessuno a lavorare. ci abbiamo più nessuno. Da dove lo togliamo? Da qua? Vediamola da qua, va? Uno l'ha fatta, infatti diceva, scusa. Ha già costruito tutte le case. E bestie? Anche le bestie stanno bene. Qui stanno... Qui insomma quasi finendo. Allora, scopriremo ben presto se questo qui... Calzolaio. Boh. Vediamo. Vediamo. Strano che non dica che fa sto coso. Boh. 41 assi. Ok. Dov'è il cavallo? Con tab. Lì c'è la mucca. Lì c'è... C'è il cavallino. No, è una mucca anche questa. Cavallo? Mi stanno a fare niente. Ok, fantastico. Dovremmo avere un cavallo che in realtà a quanto pare non c'è. 48 su 48? Possiamo raccogliere anche qui. What the hell? Qui l'abbiamo messo a Magese. No, Magese. Dopo Orzo. Qui abbiamo tre campi che stanno producendo pane. Ok. Mi sa che non lo considera... Dice zero, eh. Forse non sono panni. Forse i panni sono solo queste. ma possiamo provare a fare questo. Addio odi. Vediamo un attimo. Per curiosità per vedere che fa. e poi terminiamo il video. Qui continuo a non fare niente ma qua ci dovrebbe essere. Ah, ma perché fa così? Che pille. vuoi riportare la roba qui su, bellini? So. Che c'è? Boh. No, dammi una casa di livello 2. Grazie. No, mi sa di no. Però... Adesso c'è uno. Aspetta un attimo. E non producono. E non producono. E perché non producono? Dove lo porto? Ah, è orzo questo. Oh, grano lo abbiamo. Ah no, è orzo. Ok. Quindi niente. Ciao. Ok, adesso si stanno raccogliendo. la ritorna qua. Ho visto un più uno qui, quindi in teoria adesso questo dovrebbe fornire, no? Calzolaia. Niente. Non ha sempre più uno solo. E uuuuh. 66 di grano. Vai. Grunwald e Scorte sono fraciche di che? Di grano? Campo. Un attimo. vent'ordici persone a lavorare. Da lì il cavallo? Ci sono questi perché. Fritz attende. perché ci sono due buoi che non fanno niente? What? Scusa, abbiamo dei buoi. A quanto pare sì. Ok. Ok. Dove possiamo mettere i buoi? Qui. A me deve stare le odoglie. Quanti buoi abbiamo comprato? Tantamila. Ok. Questa adesso no. Maggese. Maggese. E grano. questi devono sbrigarsi. su. Calata anche la fornitura di cibo. Maledizione. Giustamente perché non abbiamo più la carne. Dovrebbe arrivarci la carne da quegli altri. Zero carne. Come faccio a capire se sta funzionando o meno sto coso. Guarda il warning. Riceve nulla. Grunwald. Ciao. Sì. 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 Uh banditi. Bene. Stavolta chi se li prende i soldi? No io loro e la cittadina. No. Mi sa proprio no. Allora abbiamo fatto questo. Mettiamo una persona. Oh. Sti campi. Questo ha grano. Ok. Questa magese. Questa magese. Questa magese. Questa grano. Quindi qua dovremmo poter togliere qualcuno perché tanto no. Bancarella di legna ad ardere. no. Possiamo potenziare questa. veramente poco di tutto. No. qua addirittura 5 persone non fanno niente ok basta non c'è più niente allora io direi abbiamo 3 persone qui un'altra persona qui uno qua e l'altro come andiamo possiamo fare qui bello fa tutto abbastanza schifo segale però mi sa che per la segale per utilizzarla abbiamo bisogno del punto mi sa di se lino ma neanche nessuna parte proprio lì non c'è dove sta lui maledetto possiamo provare a fare questo della segale proviamo un attimo ok qui c'è uno che produce il filo vediamo se serve a qualcosa abbiamo aumentato il cibo ma neanche tanto dovremmo fare anche un altro campo di orzo fate che l'orzo c'è nessuna parte che c'è oh banditi qui è finito facciamo uno raccogliere l'erba coppi ce l'abbiamo però va a fare un'altra segheria oh ammazza è cresciuto un botto il bosco porca miseria ok l'ho reso conto allora facciamo un'altra di queste grazie andiamo qui vai nessun bue libero dove l'abbiamo messo quel bue wow però uno due qui ci stanno che cavolo dai produci scarpe vabbè sì anche sotto per cento almeno riproduci ste scarpe oh siete in sei volete costruire sto robo bancarella d'abbigliamento ha costruito allora scarpe ce l'abbiamo però il filo non bastano per far salire a livello tre queste che sfiga che sfiga è una cosa proprio sfiga proprio sfiga perché le scarpe le sta producendo allora niente vabbè dovremo trovare il modo di farci arrivare la tintura perché a quanto pare è l'unica soluzione per produrre vestiti non possiamo andare a vestiti tutti di grigio però no però perlomeno procede la cosa adesso con la scomparsa del cibo qui sarà un problema abbiamo abbastanza risorse di grano però comunque in realtà dice dice cibo per quattro mesi non è proprio tantissimo qui continua la gente a non portarmi il grano sta cosa è molto strana comunque boh dovremmo costruire un altro forno sicuramente per aumentare la produzione perché adesso dobbiamo dedicarci veramente qui faremo tutto un circolo di campi perché non abbiamo più la carne se no addio ma ce ne preoccuperemo nel prossimo video per oggi infatti terminiamo qui come sempre vi ricordo che qui sotto potete mettere mi piace al video lasciare un commento ed iscrivervi al canale io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video ciao